5.000 lire che fa l'avviso del museo delizioso che la viscerà Concorrenza numero 8 Ciao Buonasera a tutti, sono Benedetta Dragoni e vengo da Sardana Che fai nella vita? Ho appena finito il quinto anno di ragioneria Il tuo sogno più grande? Diventare un'insegnante di danza Bocca al lupo La concorrenza numero 8, 18 anni da Sardana Benedetta Dragoni Concorrenza numero 9 Ciao Buonasera a tutti, sono Noemi Romano, 17 anni e vengo dalla Spezia Anche tu cosa fai nella vita? Devo frequentare il quinto anno di liceo scientifico E cosa ti piacerebbe fare da grande? Ancora non lo so Bocca al lupo Lei è la concorrenza numero 9, arriva da Spezia, 17 anni, Noemi Romano Per la giuria che prende appunti è la concorrente numero 9 Concorrenza numero 10 Ciao Buonasera a tutti, mi chiamo Sara De Gaetano, ho 16 anni, vengo da Genova E tu cosa fai nella vita? Studio dirigente di comunità Cos'è per Temis Italia? Un trampolino di lanzo per sfondare nel mondo del spettacolo Bocca al lupo La concorrenza numero 10, 16 anni da Genova, Sara De Gaetano Per la giuria che sta prendendo appunti, comunque voglio specificare una cosa Abbiamo delle ragazze che sono delle mascotte Ma voi dovete votarle tranquillamente come se fossero delle finaliste Perché se una di loro per caso è la più votata questa sera Comunque io alla fine devo dire che è la ragazza che avrebbe vinto moralmente la serata Quindi voi votate tutte le concorrenti con lo stesso metodo di giudizio Mascotte e non Concorrente numero 11 Ciao Ciao, buonasera, io sono Valentina Salsi, ho 19 anni e vengo da Genova Se tu dovessi dire grazie a qualcuno, chi vorresti dirlo? Alla mia famiglia È merito loro se sono così come sono Bocca al lupo Concorrente numero 11, 19 anni, da Genova, Valentina A Salsi Sta sfilando la concorrente numero 11 Concorrente numero 12 Ciao Buonasera a tutti, sono Serena Ipizzini, ho 20 anni e vengo da Genova Cosa fai nella vita? Lavoro negli strumenti di mia madre Si mangia anche tanto bene nel ritorno di sua mamma, ascolta il tuo sogno Diventare un'imprenditrice Bocca al lupo Lei è la concorrente numero 11, Valentina Salsi, 19 anni, da Genova Sta sfilando la concorrente numero 12, Selene Ipizzini Ero rimasta indietro a Valentina Scusate, per la giuria sta sfilando la concorrente numero 12, Selene Ipizzini Concorrente numero 13 Ciao Buonasera a tutti, sono Nicole Spadaro, ho 20 anni, vengo da Genova e frequento il primo anno della facoltà di economia Cosa ti aspetti da questo concorso? Mi aspetto delle gratificazioni e mi aspetto soprattutto di divertirmi Perché è un gioco e da piccola che lo guardo e finalmente partecipo In bocca al lupo anche a te Concorrente numero 13, Nicole Spadaro, 20 anni, da Genova Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 13 Concorrente numero 14 Ciao Buonasera a tutti, sono Patrizia Minito, vengo da Genova, 18 anni Cosa ti occupi nella vita? Ho appena preso la maturità alle licee delle scelte sociali e ora mi diletto a fare gelati I prossimi gelati In bocca al lupo La concorrente numero 14, 18 anni, da Genova, Patrizia Minito Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 14 Proseguiamo con la concorrente numero 15 Ciao Buonasera a tutti, sono Roberta Bobbio e vengo da un paese come questo in provincia di Genova Come questo piccolino, dove si sta tanto bene Cosa ti aspetti da questo concorso? Di vincere? E beh certo, se è proprio questo in bocca al lupo La concorrente numero 15, Roberta Bobbio, 17 anni, da Genova Entri da un paesino, da Mele, in provincia di Genova Concorrente numero 16 Ciao Buonasera a tutti, sono Giazi Castangio, 19 anni e sono di Genova Cosa fai nella vita? Mi sono appena diplomata a ragioneria, ho preso 100 e adesso mi godo un po' l'estate Complimenti Ascolta, raccontaci un po' il backstage qua a Miss Italia E niente, parrucchieri, trucco, costumi, non costumi Ci si diverte? Sì, sì, tantissimo Tantissimo, in bocca al lupo La concorrente numero 16, Giosi Castangio, 19 anni, arriva da Genova Concorrente numero 17 Ciao Buonasera a tutti, sono Veronica Cervi, ho 19 anni e vengo dalla Spezia Anche tu cosa fai nella vita? Studio e faccio la ballerina Il tuo sogno? Diventare una ballerina Bocca al lupo La concorrente numero 17, 19 anni, arriva da Ortonovo, provincia di Spezia, Veronica Cervi Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 17 E andiamo avanti con la concorrente numero 18 Ciao Buonasera a tutti, mi chiamo Dania Iula, ho 26 anni e vengo da Genova Cosa fai nella vita? Lavoro in una casa famiglia per disabili Descriviti brevemente, caratterialmente, chiaramente, alla nostra giuria Simpatica Intelligente Ancora uno Permalosa Bocca al lupo La concorrente numero 18, ha 26 anni, da Genova, Dania Iula Andiamo avanti, concorrente numero 19 Ciao Ciao, buonasera a tutti, sono Valeria Penco, ho 25 anni e vengo da Genova Cosa fai nella vita? Lavoro in uno studio legale La tua Miss Italia preferita? Cristina Chiavotto Bocca al lupo Lei è la concorrente numero 19, Valeria Penco, ha 25 anni e arriva da Genova Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 19 Concorrente numero 20 Ciao Ciao, buonasera a tutti, sono Ilaria Barbero, ho 23 anni e vengo da Asti Cosa fai nella vita? Studio, sono iscritta al primo anno specialistico in Economia e Direzione delle Imprese E cosa ti aspetti da questo concorso? Eh, banale a dirti, ma una fascia Certo, bocca al lupo Concorrente numero 20, Ilaria Barbieri, arriva da Asti E andiamo avanti, concludiamo con la concorrente numero 21 Ciao Buonasera a tutti, sono Eleonora Seghi, abito a Genova e ho 17 anni La parte del tuo corpo che ti piace di più? Gli occhi Bocca al lupo Lei è la concorrente numero 21, Eleonora Seghi, 17 anni, da Genova Per la giuria che prende appunti, lei è l'ultima concorrente in gara, la concorrente numero 21